Buongiorno a tutti i carissimi telespettatori di FanoTV, ben ritrovati, questa è la rassegna stampa occhio ai giornali. Buon inizio settimana, un inizio settimana con il maltempo come vedremo tra un istante, vediamo però prima il santo del giorno, lo vediamo subito con la grafica che dovrebbe partire tra un istante, dovrebbe arrivare, eccola qua, oggi è San Claudio della Colombiera, un religioso del 1461, il sole è sorto alle 7.08, tramonterà alle 17.36, il tempo dicevo nuvoloso, oggi avremo piogge sparse a carattere di rovescio con la neve sopra i 1500 metri, le temperature sono in diminuzione per la giornata di domani, invece martedì 16 febbraio ancora vedete precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio più probabili nella seconda parte della giornata e avremo temperature senza variazioni di rilievo, mentre la settimana sarà caratterizzata da sistemi nuvolosi con deboli fenomeni associati per il resto della settimana appunto. Allora andiamo adesso a leggere i giornali, sul messaggero la pagina di Pesaro, eccola qua, intanto in apertura il piano spiaggia, si arena sui nodi, il San Bartolo, ristorazione e parcheggi, il pressing dei 5 stelle sull'amministrazione, in consiglio il dibattito sul testamento biologico, PD a rischio di frizioni interne. VL invece lo sport con mezzogiorno di gloria, si aggiudica il match delle 12 con la prima in classifica, ma ci sono due pagine e le andiamo a vedere subito che riguardano la cronaca, la tragedia di Recanati dove quella mamma ha sparato al figlio di 6 anni e poi si è uccisa. Il legame tra mamma e bimba, le indagini puntano sul diario. Laura Paoletti ha lasciato degli appunti dove in modo velato annuncia la tragedia, racconta il suo disagio e non vuole che l'ex compagno frequenti il figlioletto e tra l'altro è stato sequestrato il cellulare e anche il computer, adesso si scava tra gli sms, whatsapp e anche nelle email. Lo zio Riccardo lo ricorda e dice perdonate, perdonaci, rivolgendosi al bambino, al nipotino per non averti protetto da quell'amore possessivo di tua madre, mentre la maestra Alessandra parla di un bambino brillante, Giosuè parlava già inglese e spagnolo. L'altra pagina invece del messaggero, il padre dimesso dall'ospedale, non siamo arrivati in tempo, ieri è tornato di nuovo dai carabinieri per la consegna di atti relativi all'autopsia, un'amica è molto provato, non riesce a credere che il figlioletto Giosuè non ci sia più, quel bimbo per il legale era tutta la sua vita, il legale appunto del papà. Poi Laura, piuttosto che dartelo, lo ammazzo e mi ammazzo, lo avrebbe detto, questa frase shock l'avrebbe pronunciata davanti ai suoceri e all'ex compagno, era una separazione burrascosa, la donna doveva essere sottoposta a perizia psicologica il 25 di febbraio. Al parco Miralfiore invece torniamo a Pesaro, una giornata in ricordo di Rocco, il desiderio della madre per il compleanno del figlio, la sua vita deve insegnarci a vedere, oltre le apparenze qualcuno ricorderà che Rocco è stato trovato, un 44enne pesarese è trovato morto in questo parco al Miralfiore, a Pesaro, all'inizio dell'anno. Ebbene il 29 maggio appunto è il giorno in cui la mamma, Laura Ciacci, vorrebbe ritrovare tutti gli amici proprio nella panchina in cui il figlio è stato trovato senza vita. A Lido siamo a Fano, a Lido il nuovo hotel a prepista, il nuovo hotel del futuro fa discutere, ha acceso un dibattito tra chi è pro e contro a questa realizzazione. è già Marchegiani, che è il vice sindaco della città di Fano, rassicura tutti e dice saranno comunque ascoltate tutte le parti e quindi cercheremo di trovare una sintesi. Andiamo adesso invece sul Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico da Senigallia racconta sotto in apertura la morte di una donna di 69 anni che è caduta dalla bicicletta per un malore ed è morta in strada ed è successo nei pressi della Rotonda a Mare. Inutili soccorsi del 118 sul posto una pattuglia della Polizia Municipale. La vittima è Umberta Belardinelli, una pensionata che viveva con la sua figlia in un condominio di via Monteverdi al Parco della Pace. Da Pesaro, nuovi ride, i ladri braccati nella notte, una banda è stata intercettata dai carabinieri e inseguita nei campi anche con i cani, recuperata la refurtiva, è successo a Cappone, nelle campagne di Cappone a Colbordolo. La pista giusta segnalata da un residente nella zona appunto tra Cappone e Talacchio che ha udito degli strani colpi e quindi ha avvertito i carabinieri che sono intervenuti e hanno cominciato questa caccia ai ladri appunto durante la notte. I malviventi fuggono con una pistola e gli ori che hanno rubato in due case in azione a una task force con dieci pattuglie. Tutti si commuovono invece per Jennifer e Arianna. Nelle messe che sono state celebrate ieri a Sant'Angelo Invado il parroco ha invitato a pregare per le sorelline morte nel tragico incidente stradale a Fermignano. Anche il sindaco non trattiene le lacrime, il piccolo Fabrice tenuto in coma reagisce comunque bene agli stimoli. Dunque in questa immane tragedia c'è quel filo di speranza che lega comunque ancora questa terra, questo bambino di pochi mesi, nemmeno un anno, dieci mesi che sta dando segnali di ripresa. Il papà è ricoverato o perlomeno lo era in Urbino mentre la mamma più grave ad Ancona. La pagina di Fano del Corriere, famiglia intossicata da un bracere, coniugi di Ponte Sasso salvati dal fratello di lei che si accorge del malessere chiama subito il 118, la coppia si riprende dopo il trattamento intensivo nella camera iperbarica, il carbone acceso in una pentola appunto nella camera da letto. Oggi inizia invece a Fano la rassegna dialettale Cianfrusaglia, ad aprire la comicità del guitto con la commedia in due atti di Stefano Guidi per la regia di Alice Guidi, il debutto di Auntir Deschiop è previsto per questa sera alle 21.15 appunto al Politeama. A Sanremo c'era anche un fanese, qualcuno ci ha segnalato anche due ballerini, adesso bisognerà capire meglio chi sono, ma comunque noi ci fermiamo a un tocco fanese Sanremo, Andrea Giomaro, agli a sgommo, agli effetti speciali, vedete qui Coneglio e le storie tese, dei quali Gommo dice loro sono dei burloni e adorano i colpi di teatro e chi ha seguito il festival sicuramente li avrà visti questi colpi di teatro. Mentre è commovente la notizia che racconta questa mattina a pagina 5 il resto del Carlino e questa fotografia che dice tutto sono tornato a camminare per dire sì alla mia Raffaella. Paraplegico realizza il sogno grazie all'esoscheletro. Michele Storoni, 28 anni, era costretto su una sedia a rotelle dal 2011. Ride in due case di Montecchio, via con pistola, pellicce e denaro, ma i carabinieri intercettano i ladri, ritrovata parte della refurtiva e furti anche alla liscia, fanno, scalano il condominio e rubano gioielli. Malviventi in azione l'altro ieri pomeriggio in via Persiutti sono riusciti ad arrivare al terzo piano passando per il tubo del gas. A Pesaro, dopo lo sgombero di via dell'Acquedotto, c'è una baraccopoli bis che è stata messa su in 4-4-8, finito lo sgombero, ecco nuovi accampamenti, una lettrice dice invece del bocciotromo fateci un dormitorio. Ieri mattina nel parco 25 aprile molti cittadini hanno segnalato appunto il ritorno di questi senza tetto. Adesso chiudiamo la rassegna con il calcio, il campionato di serie D, il campionato di serie D che ha visto impegnata il Fano, il Granata contro l'Assemblea del Tese, due pagine sul Carlino, noi ne leggiamo una, intanto il risultato, il Fano ha perso contro la Capolista 1-0, bastano due minuti e il Fano va a K.O. Ecco, vedete l'autoscatto della vittoria, si sono fatti un selfie con una macchina fotografica. La partita naturalmente la potrete vedere questa sera dopo il telegiornale delle 20.30, una partita che vi trasmetteremo come di consueto integralmente. Visse invece perde a Chieti 3-2, Visse ribaltata, il massimo della punizione. Rimonta e contro rimonta, i biancorossi regiscono allo svantaggio, ma si fanno beffare nel finale. Ed è tutto per la rassegna stampa, grazie per averci seguito, voi tutti l'augurio di una buona giornata, arrivederci. Grazie a tutti.